Questo è Myasma Chronicles, il nuovo titolo dagli autori di Mutant Year Zero, che se ben ricordate, se mi seguite da un po', fu un titolo molto molto solido, molto interessante, che scoprimmo anni orsono. Il team è tornato con un titolo molto molto intrigante sulla carta, spero che possa confermarsi tale anche una volta, avviato, per cui vediamo la prima parte e poi scopriremo insieme appunto Cosa si cela dietro a questo nome così, in particolare il gioco è un po' diverso come personaggi rispetto a quello che fu in Mutant Year Zero, ma... Allora, difficoltà, io andrei sempre su un normale, perché sì, tattica completa, le probabilità di coprire solo il fusione dalla distanza, assolutamente sì. Cronistoria 1 Da qualche parte nel Kentucky, 140 anni dopo il crollo della grande stabilità I can do this. I can do this. Sv'è l'importanza? Sv'è l'entra? Sv'è l'entra, volto a fare un'altra, volto a capire! Non faccio un'handa, i gioco! Sv'è l'indra, Diggs! Ho ho! Sv'è l'indra, Diggs! Sv'è l'indra, Diggs? Diggs! Diggs! Diggs, lo vedi le mie rinchi di me. I devo mantenere la mia mente. Oh, certo, certo, è l'indra di un gioco in mezzo in mezzo, non ti devi un bello, eh! It's working! Oh, holy moly! Just keep that mind blank, little brother. Let's do the other side! We're doing it, Diggs! We're doing it! Oh, we're on fire! Shit! 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 Thanks. You okay? No. Goddamn gloves busted. Damn it! Shit. How many tries is that? 37. Better get started on 38. How do you think 38 is going to be different than 37? Mama gave me this glove for a reason. As long as she's on the other side of this wall. Yeah, yeah, yeah! We ain't quitting. We'll find a little brother. We'll find her. Fatto visivo per adesso solido, devo dire. Oh, allo. Siamo su PC, eh, in questo momento. È un gioco che sembra giocabilissimo anche col pad. Così come era. Che devo dire, per adesso, direzione artistica assolutamente gradevolissima. Buonissimi particellari. C'è un documento. Protetto, nonremos legale. Lástica. Un commento. What the fuck need is this? Let's go, I love it. No, I love it. Oh, that made me so happy. Un mondo particolarissimo. Un mondo particolarissimo. Un mondo particolarissimo. L'impostazione, l'interfaccia, ricorda tanto quella di Mutant Gear Zero per quanto si hanno passati anni. Effettivamente. Posso solo sparare per adesso? Vado. Posso solo sparare per adesso? Vado. Non voglio andare avanti veloce, grazie. Vabbè, la copertura parziale e quella totale la conosciamo da mille, mila giochi. E' una curiosa figata che sono solo davanti, chiaramente. Se io volessi aggirare, no, in questa fase devo, devo, devo viverla così. Va, avesse mangiato. L'issio. Allora. Lo sappiamo, lo sappiamo. Quando c'è un nemico si dà una penalità alla probabilità di colpire dello 0%. Il fucile a cecchino ha una maggiore probabilità di colpire a lungo raggio, mentre il fucile a salto non ha una maggiore probabilità di colpire a corto. La probabilità di successo di armi a rimbalzo e di fucile a pompa non è pensata alla distanza. Ah. Vabbè. Noi andiamo, noi andiamo. Andiamo qua. Posso girarmi? Sì. E fuoco. Vabbè. Vabbè. Girino ricognitore. La faccia del girino. L'arto di medri, vabbè. Allora. Allora. Qui è parziale, qui è parziale, è tutta parziale. Vabbè andiamo, andiamo qua. Sì. Io direi, io direi, io direi, io direi. Mi metto qua. Ho premuto, ho premuto spazio convinto che avremmo sparato, invece mi ha tenuto. Mannaggia la morte. Il movimento, errore mio, 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 si diceva, a sto punto, lo sai che c'è, visto che abbiamo capito che sei bello, bello resistente, eh? Biancheggiato quello. Biancheggiato quello. Vale. Avevo, avevo sfiorato il due che serviva per passare al fuoco. Bene. Dove si va? Via, via. Via, via. Yes. Sì Fog move into monsters You know you can't escape it The miasma surrounds your town like an ocean surrounds a lonely island And it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland So don't leave Stay safe and sedentary The dull, colorless mining settlement you've lived in your whole life Put your head down, work hard Provide the gold that feeds America's rulers, the first family And pray the miasma of anger doesn't wipe your town off the map No one here is brave enough to conquer their fear or create their destiny Except you, Elvis With your big brother, Diggs, and years of hard work You've harnessed your glove's power and now you want to find me But you still don't know what it really is, do you? I could tell you But revelations must be earned So a secret, it shall remain Maybe in the future You will be strong enough to break through the wall and find me And if you do Maybe I will tell you my secret But we both know you'll die along the way Because between me and you Because of my mind 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 C'è un po' di fiducia Eh? Vabbè Le dimostreremo che si sbaglia Speriamo Cook, world building di qualità Per adesso Sembrerebbe Me lo auguro Insomma, io Midnight Zero l'ho amato ai tempi Se questo fosse anche solo Vicino a quel tipo di livello Mi aspetto qualcosa di intrigante a livello ruolistico qua Però Sedentaria Speriamo di dire al mayor cosa abbiamo visto Il mayor? Che va a fare contro i monstri frugli? Non può guardare una scuola Non può anche riuscire Ha riuscito in questa città per 80 anni Che va a sapere Che va a sapere Che va a sapere Sedentaria Home, sweet home Tu salvai la mia ass Da là, big man Ah, tu hai la magia, bro All I got is strength Wisdom Charisma Good looks Ok Let's talk to the old man Elvis The boy with the magic glove Mayor, listen This is gonna sound crazy But we saw monsters Real monsters What's with the hunched shoulders and sour puss, boy I keep telling you If you don't project power Someone's gonna take it from you You heard what he said, old man Monsters Right outside town I'm talking to the smart one Your 10 brain nitro Ok, say that again Diggs Calm down Calm down Trash can Trash can Loads of them are coming for the town You gotta do something I knew this day was coming But what you mean you knew? It was the last full moon The mayor of Pikeville was screaming at me on the radio About some invasion I sent the sheriff out there for a look-see He said the townspeople were gone And the streets were covered with giant sacks of eggs Frog eggs We can't let that happen here You can get the town to fight This is a mining town We mine No, the miasma's changing Behaving differently It's more important than ever You get through that wall And find your mama, Bahmati She's the only one who might know what's going on Like it or not, Elvis The fate of our town is in your fingers Yeah, about my fingers The glove's dead I blew out the power core Well, go find a new power core And come back here pronto I'll take another look at your mama's data drive See if she left any clues on how to keep that glove from breaking And one more thing Do not leave town It's too dangerous out there Allora 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 La situazione non è piacevolissima in questo momento La cosa che m'ha tipo tiltato male è come fumava C'è c'ha un tubo attaccato Attaccato al Bababia Che gli va direttamente in gola Eh, ma va bene lo stesso Beh, ma va bene lo stesso No, 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 no. Allora. Ma io la voglio come compagna di viaggio. No, 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 no. Ah. 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 Allora Possiamo nasconderci esattamente come era Mewtant Se mi spieghi come Perché non me lo ricordo Mi fai il favore Ma loro dove stanno? Ah ecco Con molta calma Ci sarebbe una cassa lì su ma non abbiamo tempo Ok Ok Ora Andiamo con lui Questa è la griglia 3 2 1 E abbiamo detto Quali casse però Le prende? Sicuro? Ok 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 Pienissimo proprio Dunque Ammazzare Non ti ammazzo Per cui Non ci arrivo Allora sai che ti dico? Ti dico Ti dico Ti dico Che vado in Difesa totale Sono 30 punti vita Non me la rischio Onestamente Allora Fiancheggiato Fiancheggiato Vale E Da qua dovremmo Da qua dovremmo Porca miseria Meno male Meno male Cento per cento Vediamo se sbagli Quella qua Maledetto Ok Usa per riempire Le riserve di kilowatt Di un membro Della squadra Può essere lasciato Danti combattimenti Utilizzato Al di fuori Dei combattimenti Dalla mia Schermata Zaino Oh Io qua Volevo arrivare Quando una squadra Sera di livello Tutti i suoi componenti Tengono 5 punti salute E un punto abilitato Utilizzare Nei propri Specifici Mazzi Delle abilità Il mazzo Dell'abilità Di ogni eroe Si trova Nella schermata Della squadra Ok E qui Andiamo La schermata Squadra Mostra la stato Attuale Degli eroi Della squadra Qui puoi Viaggiare Modificare Armi Oggetti E potere Del maiasma Puoi anche Aprire Il mazzo Dell'abilità Di ciascun Ero Nelle fasi Più avanzate Potete scambiare In ambito Della squadra Vabbè Che classico Nel mazzo D'abilità Puoi usare I punti Per acquisire Le abilità successive Diventeranno disponibili Dopo che avrai sbloccato Quelle precedenti I punti Abilità Possono essere Rimborsati Perciò puoi facilmente Riconfigurare i mazzi Dell'abilità Del tuo eroe In qualsiasi momento Tutte le abilità Sono disponibili In combattimento Ma le abilità Attive Hanno tempo Di ricarica Allora Cambiano Perfetto Partiamo Da Elvis Lui può Aggiunge 20 punti Ferita Oppure Reagisci Sparando In un'area Selezionata Quindi sorveglianza Rimuove Fino a Due punti Armatura Dal bersaglio Ma è una cosa Che farei più Con Con lui Fratellone Puoi essere usato Come alta Copertura Dagli alleati No vabbè Poraccio Favamo diventare Un tank De quarta categoria No Scatta e spara Può essere interessante Ma io farei punti Ferita Perché Lo vedo effettivamente Come un Simi tank E Lui Lo mettiamo In sorveglianza Che può essere Interessante Ci saranno Secondarie Questo è lo zaino Inventario condiviso Ok Consuabile Celle energetica Da 80 punti di energia I costumi Modarmi C'è un sacco di roba Ragazzi In un gioco come questo Non riusciremo mai E poi mai A vedere tutto quello che c'è Neanche a Raschiare la superficie Credo che per questo Sarà necessario Tornarci In qualche modo Che sia Che sia Attraverso Non sapevatelo Che sia attraverso Qualcos'altro Ma dobbiamo Tornarci Perché Non Non riesco Chiaramente A cogliere Nulla di quello Che il gioco Può effettivamente Offrire così poco Per quanto Sia chiaramente Servito Per Two bodies Fruzzi In mi asma Si sembra Super Old Calcifari Pensate Siamo originali Sì Un'ultima Prima 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 Il filo rouge Che lega I prodotti Di questa azienda È Apocalisse E Animali Ehm Umanoidi Ecco Questo è un po' Ehm 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 C'è grande Continuità In questo senso No io volevo andare Al secondo piano Capire un attimino Eccolo Sto per capire Anche a livello Di equip Perché Il mio tantino Azzino Aveva un botto Di queste cose Disco tattico Rimbalzo Prendi oggetto Quindi Oh Tipo la nostra arma Attuale Fa 50 danni E 70 Di critico Con portata 13 Questo fa 40 60 Ma con portata Più alta A me Io posso portarle Posso portarne Due Nucle energetici Niente Questo me Mazzabilità Per adesso Ehm Quello c'è Ehm Ragazzi Io per adesso Mi fermo Anche perché Se no Lo scopriamo Diventa lungo La guarisima Però Fatemi sapere Cosa ne pensate Grazie A 505 Per la possibilità Di trattare Il gioco Con un po' D'anticipo Rispetto al lancio Se vorrete Ne riparleremo Fatemi sapere Un po' Cosa ne pensate Che persone Vi ha fatto E E noi ci aggiorniamo Prestissimo Per la possibilità